...mezzo alle montagne Bisogna capire in che modo arrivarci Bisogna capire in che modo arrivarci Boh, io vado qua, proviamola ...mezzo alle montagne ...mae, forse è una strada c'è, forse... Forse è più semplice del previsto ...mezzo alle montagne Non ti vedo più ...mezzo alle montagne ...mezzo alle montagne ...che spari ...mezzo 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 alle montagne buttato adesso e non so se più vicino o più lontano da dove dobbiamo andare però venendo sulla mappa mi sembra un po' peggio ma porco dio che ho caduto per caso l'obiettivo a te è cambiato aspetta che sono morto c'è qualcuno ha acceso questo e non siamo stati qui ancora che noi arriviamo là ecco ti mi scredo vabbè che sto scopendo la posizione aspetta che mi sono andati a prendere la gazzina la tua squadra è completa ok Vabbè niente Quindi non ti posso entrare io Ma come cazzo ci sei fatta a sparire, scusa? C'è l'ultimo Tu cazzo sei andata a finire Quello voglio, quando? Boh, voglio capire perché ti scide Da dove? Dalla squadra Si era disconnesso I suoi nemici non possono nascondersi o fuggire Tutti subiranno il giudizio dell'uomo palena Ho una palena Le vuoi di un palena Puoi non fare la palena Migliere bottini Migliere bottini Vabbè Un po' Penso che era più facile il previsto ma non è una cosa più facile Ok 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 Mi dice torna da bucket Eh, te lo stavo a dire prima no? Perché non te lo diceva prima quando ti ho chiesto Eh, non ci ho fatto caso proprio Perché sto a pensare a ste cazzo di modi Di roba a do cazzo è caduta Ti ho detto, quello è morto e non siamo stati noi ad ucciderlo Ok, l'ho preso Ok Cazzo fatto questo si rende male Poi Vai, ginseng Vai, ginseng L'illuminazione C'è il faro Vabbè Vabbè, niente, questo è tornato Oh, si sta pieno di gente da A Probabilmente a momenti lo finiscono Radunatevi, fedeli seguaci del saggio e magnanimo uomo falena Aspetta che c'è quello Costantino che mi sta a fare vieni, vieni, vieni Ah, sta proprio qua, proprio, sta venuto Ma sicuro che dice a te? Non credo Non lo so, ha fatto vieni, vieni, vieni Mi sa qualcun altro Ecco, infatti Questa è talmente l'incoglione Questa è talmente l'incoglione Non so, ha fatto vieni Non so, c'è la scuola Non so, c'è la scuola Sì! 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 Quello è livello 2! Sì! 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 Sta a cercare di pagare in tutti i modi! Raffogli questo! Niente! Sì! 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 Quello è livello 2! Ghi! Come Ghi! Quello che sta qua! Guardalo! Sta piangato a te! Gamba! Di su stava scena quello della roba per terra! Di qua c'è il regalo e quello si guardava intorno! Povero Costantino povero! Ma praticamente questa cosa la stiamo a fare tutti insieme! Eh sì! Così funzionano gli eventi pubblici! Sì! 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 Grazie. 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 Grazie.